Buonasera colleghi e colleghe, scusate l'ora tarda, sono le nove e mezza di venerdì 20 novembre ma diciamo così c'è una novità importante per chi lavora domani, soprattutto per chi dovrà fare controlli alle attività commerciali o dovrà rispondere alle immagino numerosissime richieste di informazioni che arriveranno ai comandi. Quindi ringrazio ancora Appler che ci dà la possibilità poi a tutti di tenerci aggiornati. Vengo subito al dunque, cosa è successo? È stata emanata oggi un'ordinanza contingibile urgente da parte della regione Emilia-Romagna, quindi parliamo solo di ambito regionale Emilia-Romagna. Questa ordinanza è andata a modificare la ordinanza 216, quella che dal 19 novembre fino al 3 dicembre regolamentava tutta una serie di cose, tra le quali le misure relative alle chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Questa ordinanza è già, questa nuova ordinanza, la 218, modificativa della 216, è comunque già da applicare domani, perché domani è sabato quindi è un giorno prefestivo per cui da domani sappiate che cambieranno queste cose. Poche ma è importante saperlo. Allora, che cosa dice l'ordinanza 2018? Che vengono modificate tre lettere, la B1, la B2 e la C1 della precedente ordinanza 2016. La B1 nella nuova formulazione che cosa ci dice? Nei giorni prefestivi, sabato o giorni precedenti a una festa, gli esercizi commerciali insediati all'interno di centri commerciali, aree commerciali integrate o e o polifunzionali sono chiusi al pubblico, quindi di fatto sembra non cambiare nulla, salvo che per la vendita dei soliti generi alimentari, per le farmacie, le tabaccherie e le edicole. Qual è la novità? Le medie e grandi strutture di vendita non insediate all'interno dei centri commerciali, delle aree commerciali integrate e dei polifunzionali sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita dei generi alimentari, dei prodotti per la cura e l'igiene della persona e per l'igiene della casa, degli articoli di cartoleria, cancelleria, giornali e riviste, farmacie, parafarmacie e tabaccherie. Tutta questa parte del, diciamo sì, c'è questa separazione tra quello che è dentro le, i centri commerciali, le aree commerciali, non c'era questa distinzione prima, adesso viene fatta la distinzione tra interno ed esterno ai centri commerciali, siamo così generici, e all'esterno è data la possibilità alle medie o grandi strutture di vendita di aprire per la vendita però solo di questi prodotti, non solo i generi alimentari come erano prima, ma anche prodotti per la cura e l'igiene della persona e per l'igiene della casa, quindi saponi, shampoo, detergenti, igienizzanti per la casa, detergenti per la casa, articoli di cartoleria e cancelleria, e poi vabbè, i giornali, le riviste, le farmacie, le parafarmacie e le tabaccherie, ok? Che cosa cambia nei festivi? Di fatto si riproduce lo stesso schema, ovvero rimane nei giorni festivi sospesa ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, salvo però, come era anche prima, per la vendita di generi alimentari, ma sono stati aggiunti adesso, prodotti per la cura e l'igiene della persona e per l'igiene della casa, articoli di cartoleria e cancelleria, giornali e riviste, parafarmacie, farmacie e tabaccherie. Nei giorni festivi gli esercizi commerciali insediati nell'interno dei centri commerciali, le aree commerciali integrate e dei polifunzionali sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole. Quindi si riproduce lo stesso schema, dentro ai centri commerciali chiuso, salvo, alimentari, parafarmacie, farmacie, tabaccherie ed edicole, fuori dai centri commerciali è possibile invece anche, quindi in aggiunta, prodotti per la cura e l'igiene della persona, igiene della casa, cartoleria, cancelleria. Ultima disposizione è cambiato il periodo di vigenza di questa ordinanza che è dal 14 di novembre come inizio ma non è più il 3 di dicembre ma il 27 di novembre. Queste sono le novità, sono stato stranamente breve quindi bene, buona serata a tutti, buonanotte e buon lavoro.